iniziamo la parte lunga estesa non inesauribile però sulle figure retoriche la prima domanda è dobbiamo imparare la memoria ma sì però in realtà sì 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 anzi la prima domanda è perché dobbiamo imparare la memoria a che cosa servono le figure retoriche perché penso che alle scuole medie ve le avranno propinate no anche con noi insomma la metafora la similitudine abbiamo scoperto l'assonanza la consonanza le figure retoriche servono a dar forza al discorso quando noi ci quando noi parliamo quando noi ci esprimiamo in forma orale o forma scritta ci troviamo forse anche in modo automatico inconsapevole inconsapevole a ricorrere le figure retoriche cioè se io mi mettessi a dire questo è importante questo è da sapere questo dovete riconoscere è chiaro che questo ripetuto è una figura retorica ed è un anafora c'è una ripetizione della stessa parola e anche poi ci sono anche altre figure retoriche più ricercate che sono magari di uso prediletto dei dei poeti mi viene in mente dante quando all'inizio dell'inferno dice che nella se che la selva oscura è il luogo in cui il sol tace che è una bellissima immagine perché tutti quanti capiamo che se il sole tace non è perché non è per altra ragione se non per dire che il sole non compare non appare non si vede però il sole ha a che fare con la vista e tace ha a che fare invece con l'udito si chiama sinestesia perché è una fusione tra due figure retoriche tra due sensi tra due sensi differenti le figure retoriche servono perché nella quando noi facciamo le analisi dei testi riscontriamo che alcune parole o alcuni concetti sono davvero messi in evidenza acquistano risalto arrivano immediatamente a noi e perché questo accade accade evidentemente perché l'uso accorto della parola determina questo effetto vi faccio un esempio se io dico che marco è un leone che è un esempio di semplicità immediata uso una metafora perché tutti quanti siamo istintivamente portati ad associare il leone all'idea del coraggio e quindi marco è coraggioso se fosse come un leone per la presenza del come sarebbe una similitudine perché la e questa cosa resta 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 impressa perché evidentemente e se si condivide un codice di comunicazione evidentemente le metafore riescono a ad essere ad essere condivise e faccio un esempio quando noi ricorriamo per esempio all'ironia no all'ironia come per esempio adesso fuori il sole sta destando sta svegliando sta illuminando gli alberi per non essere troppo poetico allora destando sarebbe una metafora se io dicessi che brutta giornata oggi vero e invece fuori una bella giornata è chiaro che ricorro all'ironia e l'ironia per essere decodificata ha bisogno che esista che le persone che leggono che parlano condividano lo stesso codice per lo meno in questo caso dobbiamo tutti aver presente se fuori sia bello o sia brutto le metafore dunque si le metafore faccio un altro esempio la gertrude la gertrude di manzoni che fortemente attirata dai discorsi delle altre novizie che parlano di cose mondane della vita sociale eccetera manzoni spiega questo atteggiamento di gertrude con con la similitudine delle api e del paniere con i fiori fragranti eccetera ecco noi oggi probabilmente potremmo usare un'altra 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 immagine capite perché evidentemente il le le immagini che utilizziamo e dipendono sempre dal contesto in cui in cui sono espresse ho fatto una deviazione per quanto riguarda l'uso delle immagini e dell'ironia ritorno sull'argomento delle delle figure retoriche sarebbe sbagliato pensare almeno che non si tratti di una verifica scolastica pensare che si scriva utilizzando come dire che si passi prima di tutto per l'identificazione delle figure retoriche cioè se io vi dico paolo trova il chiasmo è chiaro che lì c'è un chiasmo e va identificato ma in realtà la nostra analisi parte sempre dal contenuto da quello che il testo dice una volta che tu comprendi il testo comprensione del testo puoi occuparti una volta che ti sei occupato del cosa dice puoi occuparti del come lo dice e allora è tua l'abilità di identificare un assonanza una consonanza una sinestesia no un qualsiasi figura retorica perché prima hai capito che lì il messaggio è chiaro e poi vedi come mai il messaggio è chiaro di solito si fa cioè non si va non si va come chi va a pesca che mette l'esca su lamono a pescare le figure retoriche si passa prima per il contenuto e poi si cerca di identificare la parola chiave vedere come espressa se legata alle altre parole la parola retorica è una parola che parte da una radice che re che per gli antichi greci aveva a che fare con la parola quindi in nell'antica greci cia esisteva la retorica che aveva a che fare con l'arte della parola che poi era sia retorica che oratoria presso i greci mentre invece pressi romani il termine retorica si riferisce esclusivamente all'insegnamento delle regole del dire del parlare dell'esprimersi in modo consono e retorica re la radice è la disciplina per noi sul dizionario che insegna le regole del dire ok retorica fu molto in voga presso i greci anche pressi romani ma per una per i romani in particolare perché la retorica è collegata all'esercizio della vita politica e quindi per essere in politica devi essere un bravo oratore l'oratoria è l'esercizio della parola in pubblico la retorica invece la disciplina che ti insegna a parlare e la fase è la fase precedente a che cosa appunto e poi noi oggi invece utilizziamo il termine retorico in accezione negativa perché se io dico se c'è uno in tv che parla tanto uno dice ma quanto è retorico questo dicendo quanto è prolisso perché questo vale in italiano per prolisso per uno che non sa esprimersi in modo sintetico ma che si dilunga molto e invece e quindi ha un'accezione negativa ma questo fa parte del dei viaggi delle parole nei secoli per cui il significato originario magari viene completamente rovesciato già abbiamo visto tanti casi a che cosa punta la retorica a due aspetti fondamentali la persuasione e l'abbellimento del discorso la persuasione vuol dire il persuadere convincere e l'abbellimento vuol dire la capacità di esprimersi in bella forma in bella maniera se io dico casa e palla a a a a o un o un'assonanza è una figura retorica relativa al suono ok se io dico marco è un leone questa non è una figura retorica relativa al suono ma è relativa al significato giusto e faccio un altro esempio invece se invece di dire il coraggio del leone dico del leone il coraggio facendo un'inversione è una figura retorica relativa alla posizione delle parole noi distinguiamo tra figure del significato che vuol dire che cosa la parola esprime e figure del significante che vuol dire che si riferisce all'involucro alla parola marco è un leone è una figura del significato perché è sull'uso di leone per coraggioso che verte la figura retorica invece palla e casa che che è un'assonanza ha a che fare con l'involucro con il suono della con i suoni della parola e poi terzo ci sono le figure di posizione perché se io metto faccio un'inversione di una parola sia ora doppia una parola lì evidentemente lavora sulla posizione delle frasi le figure di suono assonanze e consonanze e rime le abbiamo viste adesso le ricorre le rincorriamo per la pagina 46 l'assonanza schiena vena schiena vera scusa la consonanza tratto costretto fa sempre riferimento quanto segue dopo la vocale la vocale accentata rima vocali e consonanti in comune e poi bellissimo palazzeschi cloff 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 e tecloc e tecloc e tecloc e giù nel cortile la povera fontana malata allora letta malissimo ma palazzeschi non so se l'avete fatto è un autore del primo novecento e quello di e lasciatemi divertire è un poeta che destruttura le poesie che reagisce alla crisi della poesia scrivendo come dice lui corbelleria o grulleri e non ricordo quindi è un poeta che ormai i poeti non ho più il crismi di una volta non sono mai più figure di riferimento e quindi lui rinuncia proprio consapevole di questo mandato che ormai non c'è più si diverte cloff 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 e lavandino che perde evidentemente no o la fontana malata attraverso il suono attraverso il suono veicolo un'idea il grande poeta d'annunzio scrive fresche le mie parole ti siano nella sera fresche e poi il fruscio tra le foglie fresche e poi c'è fruscio tra le foglie fr la ripetizione ti dà di lei l'idea della mano che entra nella siepe il rumore delle foglie quando attraverso il suono riproduco è un una situazione nella siuolo di pascoli ogni strofa si chiude con q che è il onomatopeico e riproduce il suono della siuolo dell'uccello notturno a cui la poesia è dedicata cioè che di cui si parla della poesia q ok dati un esempio di un onomatopea bang nei cartoni animati per esempio la porta che chi che sbatte un altro esempio bang l'esplosione la paronomasia beh onoma e onoma e nome paronomasia vuol dire l'accostamento di di parole che hanno un suono identico ma significato differente io vi faccio un esempio bellissimo di dante è sta selva selvaggia tra selva e selvaggia non c'è alcuna affinità di significato ma è selva e selvaggia hanno la stessa lo stesso gruppo consonanti che vocalico si tratta di una paronomasia le figure di posizione sono per esempio sono quelle legate alla ripetizione per esempio all'interno di una frase allora in pascoli si dice e mi dicono dormi mi cantano dormi sussurrano dormi bisbigliano dormi sulla porta dell'inferno c'è scritto per me si va nella città dolente per me si va nell'eterno dolore per me si va per me si va è un anafora vuol dire che all'inizio mentre tipo per me si va per me si va mentre l'epifora e alla fine i versi qui di sempre di dante lighieri finiscono con cristo e questo cristo non è un'anafora ma è un epifora epi vuol dire alla fine poi c'è la nastrofe amata dai poeti dei tempi lontani e gli occhi porto per fuggire in tenti ove vestigio ma l'arena stampi gli occhi porto va letta come porto gli occhi allora qui c'è il discorso della parafrasi che un altro aspetto interessante su cui lavoreremo a breve la parafrasi vuol dire che noi il testo del poeta dobbiamo renderlo accessibile sostituendo le parole difficili e lavorando sugli spostamenti gli occhi porto se dovesse scrive l'improsa sarebbe porto gli occhi l'iperbato l'iperbato è un salto e la figura retorica su cui si conclude il testo di petrarca e i lumi bei che mirar soglio spenti i lumi spenti devo fare un salto perché iperbato ha a che fare con il greco e iperbo dire oltre e faccio un salto ed è una figura retorica differente dall'iperbole l'iperbato è una figura del significante l'iperbole invece è una figura retorica del significato quando catullo dice alla sua lesbia dammi mille baci dice il poeta montale in ricordo della sua donna ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale è chiaro che non ne hanno fatto un milione ma è un numero esagerato come quando catullo e la sua lesbia dice che vuole tanti baci quanti sono i granelli di sabbia del del deserto e del deserto africano il chiasmo che cos'è le donne i cavalieri le armi gli amori e il celeberrimo esordio dell'orlando curioso di ariosto dovete far così mettere due sopra e due sotto se io metto le donne i cavalieri sopra e sotto le armi e gli amori e collego i simili le donne si collega agli amori e i cavalieri le armi ottengo una chi greca quella che per noi una x per l'antichi greci era una lettera che si chiamava chi allora è un chiasmo altrimenti se gli stessi termini fossero disposti le donne i cavalieri amori e armi in quel caso avremmo un parallelismo perché unendo i simili otteniamo due parallele chiasmo e parallelismo operano su quattro termini sotto i primi due vanno disposti altri due e a coppie no e poi tu unisci simili poi c'è l'accumulazione quando si fa un elenco di molte parole il climax si dovrebbe dire la climax ma io ormai dico il climax perché climax climax in greco vuol dire scala la scala che si sale oppure che si scende allora quante volte ve l'avrò detto 100 1000 10.000 è un climax ascendente perché si sale altrimenti se dico guarda cioè prima la gente si vuole bene 100 dopo 50 dopo 10 è un climax discendente ok perché si scende quindi bisogna sapere dovrebbe dirsi la climax ma io ormai ho sempre detto il climax e quindi tanti dicono anche il climax non sono l'unico e quindi è ascendente o discendente quindi